Una firma per dare più opportunità a lavoratori svantaggiati e disabili nel mondo del lavoro. La Convenzione è stata sottoscritta in Regione Toscana da Arti, Agenzia Regionale per l'Impiego, Associazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori, Associazioni di Rappresentanza, Assistenza e Tutela delle Cooperative. La Convenzione ha l'obiettivo di integrare e ampliare gli strumenti già esistenti per il collocamento mirato i disabili e i lavoratori svantaggiati, facilitando le imprese negli obblighi legislativi di assunzione e coinvolgendo nel processo di inserimento le cooperative sociali. Un passo in avanti per un inserimento che va poi verso il fine ultimo dell'autonomia delle persone con disabilità. Attraverso questo accordo le imprese che hanno l'obbligo di assunzione rispetto ai soggetti disabili, quindi ex legge 68, potranno nei casi di disabilità più grave, quindi nei casi più problematici, potranno commissionare un servizio alla cooperativa e quindi il disabile potrà prestare la sua opera presso la cooperativa. Il periodo di lavoro in cooperativa può essere utile al lavoratore disabile o svantaggiato per maturare le competenze necessarie a un successivo inserimento completo nell'azienda. La Toscana, con questo strumento, è in prima linea per l'inclusione lavorativa. Ad oggi è stato applicato in pochissime regioni perché indubbiamente pone comunque dei problemi di applicabilità. Quindi noi abbiamo, come dire, prima di arrivare a decidere di applicarlo, abbiamo voluto veramente approfondire la riflessione e lo studio dello strumento stesso con il coinvolgimento appunto di tutte le parti sociali. Come dire, volevamo essere sicuri di arrivare a creare un buon prodotto, un buono strumento.